Buonasera a tutti ragazzi del vostro Carta al Curva Nord, fine del derby Lazio-Roma. Allora, che derby ho visto? Allora, ho visto un derby abbastanza ragazzi tattico, un derby abbastanza molto tattico sotto tutti i punti di vista. C'era per tutti e due, secondo me, un po' di... come suol si dice, di paura, perché comunque non ho visto nessuno pregrabilere sull'altro, sinceramente. Anche se al primo tempo ho visto quello scambio di Nainggolan che apre sulla fascia sinistra e Bruno Peres, pam, palo. Poi al secondo tempo ho visto un gran colpo di testa ancora una volta di Edin Dzeko, anche se questa sera Edin Dzeko purtroppo non va in gol. Per la Lazio ho visto tanto immobile. Ho visto una Roma abbastanza alta con questo Di Francesco che spesso e volentieri la Lazio si trovava in situazioni di fuori gioco, perché Di Francesco sta giocando a una visa molto molto alta. Volevo sottolineare anche che è stata una fortuna, ragazzi miei, una fortuna. Meno male che ci stanno le due Romane che oggi hanno pareggiato questo 0-0, che sinceramente per tutti e due, per la classifica serba poco, perché riscavalcano di nuovo noi dell'Inter a 51, ma noi rimaniamo a 50 e ragazzi una partita comunque abbastanza molto maschi, per tratti anche molto brutta, falli, ammunizioni un po' così. Ho visto solamente il palo di Bruno Peres al primo tempo, ho visto il colpo di testa nel secondo tempo di Edin Dzeko che voleva di nuovo coronare anche questo derby per completare la grande bellezza della Roma dopo la vittoria in Champions League con il Barcellona. Ho visto uno chic che sinceramente, ragazzi scusate se ve lo dico, 40 milioni, ma di che? 40 milioni per quel giocatore? Io sinceramente non noto queste grandi qualità tecniche, tattiche. Poi mi potrò anche sbagliare, se voi condividete questo pensiero io vi aspetto sotto nei commenti, perché non ho trovato questo grande chic, diciamo così come si diceva, meno male per noi dell'Inter che non l'abbiamo mai preso, ragazzi, perché a me francamente non è che mi entusiasmi poi così tanto. Il resto, ragazzi, che dire, è stato un pareggio che... sterile, sinceramente, sterile, 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 perché comunque sì, si sono state combattute la partita per carità. Può da segnare all'improvviso una dell'altra, però non ho visto un derby chissà quale esplosivo, chissà quale... di quei derby, diciamo, si chiama, che sulla carta è vittoria netta. No, vabbè, sono sempre così i derby, però sulla carta io pensavo più che la Roma avrebbe dato quel qualcosa in più, diciamo, perché viaggiava con le ali dell'entusiasmo della Champions, invece ho visto un derby un po' così, un po' troppo, diciamo, fermo, bloccato, tranne qualche occasione, come già ripetevo, ma... niente di che, ragazzi, e che dire, dobbiamo essere contenti a questo punto, dobbiamo essere contenti, perché... questo pareggio fa un bel sperare a noi dell'Inter in questa... se si può definire, corsa alla Champions, anche se io ormai, dopo ieri, sinceramente, ragazzi miei, alla Champions un po' ci ho rinunciato, vedi qua la verità, visto le prestazioni, le ultime prestazioni alla Champions un po' ci ho rinunciato, il resto... annoia. Comunque, Roma-Lazio non so perché, comunque, vedo molto un gioco, a prescindere quello che ho visto questa sera, un gioco più ragionato. hanno comunque ottimi cambi, ecco, la Roma, diciamo, si permette di togliere Schick, entra un giovane che, a differenza del nostro, loro li buttano dentro, come Undar, e... e loro anche la Lazio esce, mi sembrava, mi sembra, basta, o anzi, o Lulic, ed è entrato Lukaku, Jordan Lukaku, quindi... cambi abbastanza, molto eccellenti, a differenza dei nostri, che sette giri in panchina, vedi poca roba, quindi... per la Corsa Champions sarà dura, questo pareggio ci aiuta, ma sarà molto, molto dura, ragazzi. Vabbè, speriamo bene, ci vediamo a questo punto domani sera nel mio canale per Arena Sportiva, e poi, ragazzi, ci vediamo martedì, sperando che con il Cagliari non facciamo altri disastri, perché se perderesti a quel punto con il Cagliari, credo proprio che sia proprio finita la lotta alla Champions, ragazzi, perché... dopo andiamo a incontrare, comunque, il Chievo Verona a Verona, poi abbiamo la Mertus in casa, quindi... comincia a essere tosta la Corsa della Champions, anche se per me, ragazzi, eccola la testa, non ci si arriva, comunque... buona serata, ragazzi, e un abbraccio, continuate a condividere questo dito, mettete un bel mi piace, e continuate a iscrivervi al canale.